Era ricco di fantasia, sempre allegro, sempre provocatore, insultava, ma sempre affettosamente, sempre scherzosamente e quindi era un pasticcione. Un pasticcione lo definisce così Giuseppe Chiaravalloti, già presidente della regione Calabria, e il suo amico e collega di università Paolo Villaggio. Un legame nato negli anni più belli con l'attore genovese, venuto a mancare pochi giorni fa, che con la sua dipartita ha riportato alla mente dell'ex governatore i ricordi della gioventù, quando i due, fuori dalle aule universitarie, condividevano anche il palco del teatro. Intanto facevo il prologo, lui uscì fuori dall'apertura, signori sono Paolo Villaggio, terzo anno di giurisprudenza, Vi ringrazio di essere venuti qua, è vero che se non fossi venuti voi sarebbero venuti degli altri, ma considerando che gli altri sarebbero potuti non venire, vi ringrazio lo stesso. Sono gratissimo a tutti, al magnifico lettore che rappresenta in sala, ai miei professori e alla signora Lucifredi, verso cui mi sento obbligatissimo. E poi cito la definizione romana dell'obbligazione, Nel corso di questi anni voi vi siete sentiti qualche volta? Sì, poi quando ero presidente della regione lo feci venire qui per uno spettacolo, da me c'è un assieme, poi lui venne a Clotone, lui avvisò e andai a trovarlo, poi ci vede Marrom un paio di volte, poi il tempo consuma, la vita distrugge. Rossella Galati per la CNews24